Abbiamo consegnato le prime 17.000 firme in una petizione che ha visto oltre 100.000 Lombardi al nostro fianco per dire una cosa molto chiara, va ricostruita la sanità pubblica in Lombardia, va rilanciata, va garantita il grito alla salute, basta con le liste d'attesa che vanno a richiedere alcuni e lasciano nello sconforto tanti cittadini Lombardi. Vogliamo risposte chiare e nette e questa è una legge di iniziativa popolare che ai sensi delle regole del Consiglio regionale dovrà essere discussa, quindi il Consiglio regionale dovrà votarla. Quali sono i punti principali? I punti principali riguardano il superamento della cosiddetta equivalenza tra pubblico e privato proprio perché noi vogliamo rimettere al centro il valore della sanità pubblica, il rilancio della medicina territoriale, il sostegno alla prevenzione, tema spesso purtroppo cancellato dalla giunta Fontana. Tra l'altro però chiediamo anche che entri subito in campo il centro unico di prenotazione affinché ci sia uno strumento chiaro e netto per contrastare la vergogna delle liste d'attesa.